allora ben ritrovati a tutti i miei discepoli con l'unico dio del bonsai presente nell'universo scusate torniamo via questo no questo mi serve torniamo a parlare di bonsai torniamo sulla defogliazione totale perché sto ricevendo un sacco di domande un sacco di richieste d'aiuto alcuni hanno già fatto delle cazzate sulle piante quindi ascoltatemi bene così imparate a fare defogliazione totale quindi oggi vi spiego delle cose molto importanti ma prima andiamo a vedere i risultati per quanto riguarda la ripartenza primaverile del miolmo pianta appena partita sarà partita da quattro cinque giorni e già sta facendo una buota dalla madonna andiamo a vedere intanto 360 gradi così come sempre vi faccio vedere cosa significa coltivare no perché se no ci sono altri che dicono no il mondo zen le formichine i batteri actimel pianta sta da dio come sempre con tutte le mie piante non c'è una foglia gialla vedete cosa cosa significa ripartenza primaverile cioè boom vuol dire la pianta deve ripartire sto concimando come sempre come tutte le altre piante tutte allo stesso modo e questi che vedete sono tutti rami nuovi e quindi adesso vi lascio la foto questa qui ecco come era prima la pianta prima la ripartenza e questo è il risultato che sto avendo io ma prima anzi dopo può vedere un attimo una cosa curiosa vi faccio un video da vicino così ecco qua così vi faccio vedere questo è primo ramo ok il primo è e come vediamo una ripartenza qui un'altra di partenza quasi si vede questa 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 poi c'è questa e poi c'ho anche questa ok e poi c'ho anche questa vediamo che qui dai visto che ci siamo ok questo un altro ramo nuovo guardate un altro ramo qui un altro ramo qua altro ramo qui altro qui altro qua 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 sopra sono tutti i rami ok questo in teoria la pianta ce li fa guardate che cos'è una roba c'è strato sferico e quindi quello che vi faccio vedere ragazzi il risultato se la pianta vi ramifica quando fate delle potature io sono l'unico al mondo nell'universo che la pianta ramifica senza fare potature questo perché perché quando gli alberi stanno bene abbiamo questa cosa qua ovvero la prima ripartenza e già tutte le spinte pronte anzi che già partono pure no e quindi tanta roba vuol dire che siamo avanti anni luce vuol dire che siamo pronti per costruire vuol dire che la pianta talmente tanta energia dentro che non solo sta bene ma ci dice già taglia pur i rami perché non me ne frega un cazzo ricaccio da tutte le parti ok quindi in ottica di costruzione del bonsai lo vado a prendere un sacco scusate lo vado a prendere eccoti qua numero uno eccolo saluta tutti dai saluta in molti hanno chiesto di lui eccolo qua quindi in ottima di costruzione ragazzi è proprio quello che serve a noi avere rami da dietro prima li fa aspetta prima li fa e meglio è non toccare la pianta con la coda non ci provare e stai tranquillo stai qui due secondi quindi per quanto riguarda la coltivazione lo butto un secondo di là perché sennò mi va a spaccare i maroni ecco qua quindi come dicevo in ottica di costruzione abbiamo bisogno di cacciare fuori più rami da tutte le parti perché sennò se poi in inverno cioè se in inverno ci sono i rami bene poi impostiamo facciamo il primo styling dell'impostazione primaria ok se non ci sono i rami non si fa ok quindi più rami ci sono ed è meglio averne tanti così li selezioniamo quindi quando state lì già a selezionare i rami dal tronco non fate niente non andate a togliere i rami dal tronco perché magari poi con la pianta spoglia magari vi servono ok se siete sicuri al 100% via però l'inverno di massimo in primavera anche in estate lasciate tutto ok perché poi magari molto spesso alcuni rami che non ci servono però facendoli allungare poi dopo li andiamo a posizionare dove vogliamo con degli innesti quindi tanta roba e come vedete ad esempio ce n'è uno qua che non mi servirà però ok c'ho questo che forse non mi serve però lo tengo per ora qui ne ho altri qui ad esempio ne ho altri due cioè qui ragazzi io tengo tutto adesso perché poi così se devo fare degli innesti o strada facile come si fa gli innesti trappano ramo giriamo e infiliamo e infiliamo dentro ok avete capito bene e parlando della defogliazione totale allora ragazzi è una tecnica di coltivazione che ci serve per andare a creare una seconda primavera artificiale ok quindi la pianta butta fuori a un certo punto arriva a un punto di stallo cioè le mie piante come vedete il punto di stallo se lo sognano perché vanno sempre di più però per carità a un certo punto inizia a maturare e la pianta bene o male arriva a un punto che dice ok sono a posto in quel momento lì è buona cosa spesso se la pianta sta bene fare una defogliazione anche totale per andare poi a stimolare la pianta a fare un'altra cacciata come se fosse primavera però ovviamente sarà l'ultima che farà perché non si può chiedere alla pianta di fare i miracoli quindi se volete una defigliazione totale sulla pianta togliete tutte le foglie che ci sono ovviamente lasciate qualche butto se è molto sottile perché sennò poi ovviamente la pianta ve li va a tirare indietro ve li secca però cosa voglio dirvi bisogna iniziatutto consumare la pianta perché sennò col cazzo cioè proprio non esiste la si prepara già dall'anno prima quindi dando da mangiare se usate i miei prodotti ragazzi il problema non si pone perché è tanto concimato ogni 15 giorni quindi la pianta sarà per forza pronta pochi cazzi ok sarà pronta al 100% però se la pianta non è pronta non si fa si fa giusto una potatura se bisogna una defogliazione parziale se avete fatto una defogliazione totale l'anno scorso vi consiglio di non farla poi per carità se avete una pianta che è una bomba un carro armato che sta in una ciotola come questa molto spesso si può fare anche due anni di fila però attenzione alle tempistiche è quello che fate prima cioè se prima di defogliare fate una potatura poi un'altra potatura poi defogliate è ovvio che la pianta arriva che è già un pochettino scarica cioè avete già chiesto tanto è ovvio che dopo un certo punto la pianta vi risponde però vi fa dei rami molto sottili piccolini sia o no poi magari in velimatura qualcosa vi scarterà quindi il consiglio che vi do poi se volete un approfondimento fatto bene c'è il video speciale sul mio sito il consiglio che vi do ragazzi è quello di lasciare maturare e correre liberamente tutto fino a maturazione completa quando siamo più o meno metà maggio poi dipende sempre in che regione vi trovate perché se siete al sud magari è già il momento se siete al nord magari altri 15 giorni anche a volte un mese si può aspettare però nella mia zona io sto a Rimini secondo me da metà maggio fino ai primi di giugno anche fino ai 10 di giugno va bene ok perché poi se no se interveniamo verso luglio ragazzi potete capire che è un po' tardino cioè arriva il caldo i butti che dopo vi butta fuori più giorni magari possono dare in sofferenza quindi regola 1 lasciare maturare e vegetare liberamente tutto perché sennò andiamo a sprecare energia regola 2 che poi è la prima fate in modo che la pianta stia bene perché sennò è inutile regola 3 se dovete fare delle margotte cioè se volete fare altre cose sulla pianta non fate anche la defogliazione totale perché sennò è massacro cioè fate una cosa importante all'anno ok stesso discorso anche per i pini cioè non inventatevi pinzature scandellamenti poi dopo anche mechiri poi tambao e cazzi amasti e stracazzi e super stramega cazzi cioè non si può andare a pensare di fare 200 operazioni in un anno cioè potete concimare la pianta sta bene ok però se vi inventate rinvasore di cenuda potatura super mega stretta che non rimane un cazzo un'altra potatura defogliazione parziale poi una totale poi anche altri cazzi magari un rinvaso anche ad agosto potete capire che dopo non sarà un fungo da ammazzare la pianta cioè siete voi cioè il problema siete voi e ricordate sempre nel 100% dei casi se uno vuole stare tranquillo chi non fa niente in linea di massima non sbaglia mai ok quindi se avete dei dubbi non fate niente la pianta starà sempre meglio ok perché si rinforzerà poi se vedete sono dei butti sottili lasciatele veramente correre perché tanto ci sarà bisogno scusate di farli immaturare prima della potatura perché se no vi muoiono ok detto questo ovviamente chi vuole andare a capire bene la tecnica della defogliazione totale e parziale c'è il video corso i due video corsi sul mio sito con 50 euro vi prendete tutti gli 8 video corsi ok se prendete protocollo nucleare più 50 euro avete tutto quello che vi serve per iniziare a fare buon sesso seriamente come i professionisti c'è quello che faccio io perché i video li faccio io con la pianta sotto c'è quello che vi dico è quello che faccio ok non è che faccio una cosa poi me ne racconto un'altra perché vi devo tener nel limbo che non dovete capire sti cazzi il mio primo obiettivo è rendervi autonomi così vi divertite e così avete risultati e così continuate a comprare i miei prodotti perché vi divertite la pianta sta bene concimate concimate il segreto è quello bisogna concimare e far allungare poi si interviene ok saluto a tutti c'è nel prossimo video claudiobonsai.com se volete avere dei prodotti che servono che funzionano fatti da me che funzionano veramente ok come fa il numero uno come fa il dio del bonsai ovviamente e ci hai lasciato un mi piace ho finito il fiato e condividete con i vostri amici bonsaiisti ok ciao a tutti e grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille